rendi conto approvati a maggioranza i numeri del 2022 sicurezza sul lavoro si unanime alle misure contro lo stress termico enjoy elba presentato il nuovo numero della rivista che racconta i segreti dell'arcipelago toscano tutto l'anno via libera al rendiconto generale della regione toscana per l'anno finanziario 2022 che si chiude con un saldo positivo di quasi mezzo miliardo di euro nell'ultima seduta di luglio il consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge connotata da una serie di importanti interventi legati ai conti della sanità ma il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta scrupolosa che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa corte dei conti ha fatto negli esercizi precedenti il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti risultato che testimonia diciamo l'equilibrio della spesa ecco per intenderci fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre mezzo miliardo di euro l'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo ma è dato dal dal fatto del dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future ma anche qua siamo in forte miglioramento perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta un miliardo e 400 milioni di euro solo sette anni fa era più del doppio quindi uno sforzo importante una gestione attenta che dimostra come le risorse finanziarie della della regione toscana vengono spese con attenzione e oculatezza c'è il tema della spesa sanitaria che ovviamente la vicenda pandemica ha cresciuto rispetto a questo i fondi il fondo sanitario nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie tant'è che nel 2022 la regione toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità ecco un documento che ha ricevuto i voti favorevoli della maggioranza si italia aveva votato a favore rendiconto finanziario è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario un atto importante che per noi anche una vittoria di carattere politico abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse che si potevano trovare le risorse che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionale IRPEF senza aumentare bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo consiglio regionale negative al contrario le valutazioni dell'opposizione che ha evidenziato le criticità già segnalate dalla corte dei conti il bilancio soprattutto nei rapporti con le asle quindi in ambito sanitario non è assolutamente trasparente è un bilancio quello della regione molto rigido siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la corte dei conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri del dei conti della regione su questo rendiconto 2022 e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla corte dei conti particolar modo dalla procura della corte dei conti e ovviamente anche dal collegio che ha ricepito i rilievi partendo da intanto una considerazione di fondo cioè che sussiste così dice la corte un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri per direlli generazioni future è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia una prassi che la regione toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare diciamo un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione a una organizzazione della parte sanitaria quindi del complesso del sistema che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete tasto dolente anche per quanto riguarda il pnrr e più in generale la programmazione europea noi ancora oggi non abbiamo una visione completa i numeri ad oggi sull'attuazione del pnrr sono numeri piccoli per la regione toscana e dall'altra parte questo quadro poco trasparente rispetto alle risorse destinate anche alla nuova programmazione non ci consente di avere un quadro anche appunto programmatorio completo il cambiamento climatico impone l'attuazione di nuove e più efficaci misure a tutela della sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti alle ondate di calore e questo in sintesi il contenuto della proposta di legge contro lo stress termico approvata all'unanimità dal consiglio regionale della toscana il provvedimento estende a tutto il territorio regionale misure già in essere in alcune aree della toscana come ad esempio alle cave di marmo di carrara è una proposta che è diventata legge che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme il cosiddetto stress termico quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale ovvero il macrolotto di prato e le cave nel carrarese chiediamo quindi alle istituzioni ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte di mettersi a un tavolo stilare protocolli accorgimenti misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione di civiltà che la nostra regione non non poteva non fare una proposta che cerca di conciliare sicurezza e produttività ci sono operatori nel campo delle edilizie nel campo dell'agricoltura che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare che cos'è che si chiede il rispetto di questi lavoratori mantenendo lo stesso orario di lavoro ma posticipato dalle ore centrali quelle più calde il che non influisce appunto sulla produttività ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore la misura ha incassato anche il sì del centro-destra diciamo che in commissione sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento ma è una questione di buon senso in fin dei conti esistono per esempio a Dubai esistono degli orari di lavoro che sono notturni quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione si dice non ci sono le mezze stagioni in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente voto favorevole anche dal Movimento 5 Stelle che però invece della proposta di legge avrebbe puntato su un'ordinanza e doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione agendo in questo modo con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema non si va al nocciolo del problema che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte la regione soprattutto quando si tratta di controlli con le asle per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire l'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema invece così facendo si è messo un pannicello caldo ma niente di più è stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni sicuramente Raccontare l'arcipelago toscano e far conoscere l'anima vera delle sue isole non limitandosi alla sola versione estiva e questa è la mission di Enjoy Elba il magazine dedicato alle sette perle del mar Tirreno Noi vogliamo non tanto descrivere l'Elba che è conosciuta dalla maggior parte delle persone per la sua bellezza, le sue spiagge, ovviamente anche quello ma vogliamo raccontare anche l'anima dell'isola d'Elba e raccontarla in ogni stagione perché noi crediamo che il sapore dell'isola si senta soprattutto in primavera, in autunno, in inverno quando l'isola ritorna alla sua vocazione naturale che è quella proprio appunto legata alla bellezza, alla storia ricchissima, al suo paesaggio alla sua biodiversità, alla sua geodiversità, insomma alla sua unicità e questo vale anche per le altre isole dell'arcipelago sono davvero sette perle del Tirreno cerchiamo sulle nostre pagine di farlo con la collaborazione di tanti amici, di tanti autori siamo portatori di una visione che vuole il turismo rurale come terzo pilastro del turismo italiano l'Italia è una realtà che è stata per tutta la sua storia prima destinazione di turismo al mondo oggi non lo è più, continua a perdere competitività e questo dal nostro punto di vista è determinato dal fatto che lavora con due soli prodotti turistici balneare e città d'arte cioè è tempo di renderci conto che dobbiamo fare un salto di qualità uscire dalla visione novecentesca del turismo di massa e immaginare di accompagnare i territori e questo vuole fare anche Enjoy Elba e questo vuole fare Sintur accompagnare i territori verso un'evoluzione verso la domanda internazionale che va in direzione dell'esperienza va in direzione di un rinnovato rapporto tra visitatori e comunità locali una pubblicazione che ha la duplice funzione di attirare e orientare i visitatori questo racconto che vede in Enjoy Elba una tassella di un mosaico molto ampio diventa determinante per convincere le persone nella fase di ispirazione di viaggio nella fase di inspiration a conoscere e anche durante il viaggio la straordinaria opportunità di questi strumenti è quello di raccontare le tante cose che si possono fare in un territorio e che spesso producono un effetto wow un effetto sorpresa continuo perché la meraviglia della Toscana e del suo arcipelago in questo caso comportano queste reazioni una scoperta continua di cose nuove, straordinarie, bellissime e quindi un rafforzamento di questa brand identity così importante che associa sempre alla parola toscana la parola bellezza Il nuovo numero della rivista è stato tenuto a battesimo nei giorni scorsi in consiglio regionale Siamo nel pieno della stagione turistica ma dobbiamo già pensare al prossimo anno ai prossimi anni il turismo deve essere programmato dobbiamo sempre lavorare affinché da un lato la storia, la cultura, le nostre radici vengano rappresentate al meglio e questa rivista Enjoy Elba sicuramente lo fa non solo per la promozione del territorio ma anche per capire dove vogliamo andare e cosa dobbiamo fare dal punto di vista turistico per migliorarci e per garantire sempre un turismo di qualità un turismo che si sposa con le bellezze non solo dell'isola d'Elba e delle altre isole dell'arciperio toscano Capraia, Giglio, Giannutri, Pianosa dove chiaramente il mare la fa da padrona ma dove anche si possono riscoprire percorsi interessanti di mountain bike piuttosto che di trekking e abbiamo anche un'unione che è quella dello sport in tanti ambiti ma anche quello della cultura con i nostri musei napoleonici e questo ci deve far appunto pensare a quello su cui dobbiamo lavorare per investire su un turismo programmato per un futuro sempre migliore di una ricettività e di una accoglienza che la Toscana chiaramente merita e sulla quale dobbiamo primeggiare in maniera assoluta. Grazie Per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti